Ciao ragazze, bentrovate, benvenute nel laboratorio creativo di Chiara di Ferrara bentrovate per chi mi segue già e benvenute per le nuovissime follower che hanno messo la mia pagina io sono Chiara e sono veramente molto emozionata, è la primissima diretta dopo l'estate, dopo la pausa estiva veramente ragazze, è come il primo giorno di scuola, sono super mega emozionata speriamo insomma che questa diretta vada tutto bene, che non mi incarto per l'emozione ma insomma abbiate a pietà di me e direi che insomma possiamo passare già a presentare i nostri progetti perché in realtà io, perché sapete che io sono brava, io sono un po' patuta ecco qui la primissima, ciao Manuela, benvenuta, bentrovata bene, cominciano ad arrivare tutte le mie fanciulle, le mie bellissime seguaci bene, devo dire che veramente sono molto 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 orgogliosa perché veramente mi seguite in tantissime sono molto 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 emozionata, veramente mi avete aspettato con ansia trepidante e devo dire che sì, insomma io mi sono un po' pesata ciao Rita, ciao Federica, mi sono preso una bella pausa, insomma rilassante mi sono bella carburata perché veramente questo autunno bar inverno veramente insomma di cose da fare ce ne sono veramente tantissime ho visto 10 miliardi di progetti che vorrei condividere con voi e veramente quindi insomma bisogna andare un po' non dico veloci ma insomma ci sono tante cose molto ovviamente lo sapete io sono già molto propensa al Natale però dai facciamo anche un po' di autunno, ci fecchiamo in mezzo un po' l'autunno, un po' Halloween insomma facciamo un po' così di cosettine un po' miste questa sera ovviamente per cominciare ho voluto pensare a un progettino diciamo semplice e presentarvi comunque i primi pannelli natalizi che ha presentato Idee per creare chi non sa chi è la ditta ovviamente faccio un breve riassunto allora Idee per creare è un'azienda che produce, quindi proprio costruisce pannelli in pannolenci stampato però non è che fa i fiorellini, il pizzettino, delle cose così fa dei veri e propri progetti dei veri e propri progetti, quindi nel pannello di pannolenci stampato voi trovate tanti tipi di soggetti che variano ciao ragazze, benvenute, vi saluto tutti in una botta e quindi insomma ogni pannello ha un suo progetto dal fiacco nascita alla ghirlanda fuoriporta, ai fiori, ai folletti veramente ce ne sono tantissimi questi che io vi presento questa sera sono gli ultimi che sono venuti fuori e so già vi do una bella spoilerata il 20 settembre verranno fuori tutti quelli nuovi natalizi proprio la collezione quella completa questo è un piccolo assaggio ma andiamo a vedere, intanto io sono in compagnia di due sonori fanciulli sono due folletti gemelli e questi folletti sono stati realizzati quindi vedete che con un progetto, con un pannello fate veramente tantissime cose lo vedremo questa sera insieme questo è un tipo di progetto quindi adesso vi faccio vedere il pannello nella sua integrità ed è, come direbbe mia nipote questo si chiama, qui vanno con i codici quindi non si fa neanche confusione si chiama P136 e viene chiamato i fiori natalizi eccola qua e con i fiori natalizi quindi vedete che ci sono queste belle striscioline qua che io già un po' ce le ho preparate si fanno veramente tante cose si fanno quindi con questi qua che diventano i fiorellini io ho costruito i folletti però si possono fare fuori porta composizioni per il centro tavola si possono fare veramente tantissime cose questi pannelli hanno il prezzo imposto di 15 euro quindi ogni pannello costa 15 euro qua vedete ci sono tantissimi pezzi infatti io con questo pannello che cosa ho realizzato? ho realizzato i folletti e poi questa sera realizzeremo invece i fiori quindi vi farò vedere i fiorellini quindi andremo a vedere com'è l'assemblaggio di tutto e che cosa andremo a creare il secondo pannello invece sempre natalizio che è poi la base di tutti i miei lavori è questo si chiama P129 ed è la slitta calendario in realtà nascerebbe come slitta calendario quindi come calendario dell'avvento però io ho pensato tipo beh io non ho bambini piccoli non ho riputi piccoli il calendario magari non l'uso allora siccome ci sono veramente un sacco di pezzi e abbinato a questo fantastico pacchettino con le casette di alberelli fustellati in feltro ho detto ma se io questo lo divido lo divido quindi faccio una slitta uso gli alberi per una cosa uso questo che vedete è un paesaggio così per altre cose quindi faccio tante cose con un unico pannello faccio tre o più progetti e quindi cosa ho fatto ora ve lo faccio vedere primo progetto eccolo qua la slitta di Babbo Natale quindi con il pannello della slitta quindi ho utilizzato solamente la slitta e ho praticamente ritagliato questa è anche pure piegata la U ritagliato dalla quindi ho usato questi come Dima il fustellato la scritta auguri quindi questo qua l'ho fatto in formi oro e ho aggiunto di mia invenzione il babbetto il Babbo che ovviamente porta i doni c'è il suo bel sonaglio che non ci facciamo mai mancare la musica e questo è il primo progetto il secondo progetto invece che presenterò questa sera è questo qua il Babbo lo mettiamo da parte e andiamo a prendere quindi questo che è il praticamente il paesaggio io intanto per velocizzare un po' le cose vedete l'ho cucito con un pannolenci in tinta unita grigia dietro e l'ho leggermente imbottito non l'ho chiuso lo chiuderò dopo e andrò a sistemarmi un po' l'imbottitura quindi cosa ho fatto ho preso il mio bel pannello l'ho ritagliato ritagliato la mia sagoma cucito collato fate come volete io l'ho cucito appunto filza perché appunto fessone mi sta molto antipatico e io ah grazie Patrizia vedete oggi sono in versione pin up perché comunque fa sempre un caldo bestialissimo e io uso feltro l'acqua a caldo il pannolenci ma fa un caldo tropicale quindi dovrei più che altro presentare progetti tipo con le palme le avaiane ma vabbè facciamo come il Natale americano che vanno in spiagge insomma in certe parti d'America vanno in spiagge il giorno di Natale fra un po' faremo così anche noi quindi me lo vado a sistemare me lo sono tagliato cucito e imbottito e questo è e quindi è la nostra base quindi cosa ho fatto dal mio pannellino ho ritagliato i miei alberelli i miei alberelli e ne ho ritagliati però solamente tre ne userò solamente tre ovviamente diversi con i tre fustellati abbinati e poi userò la sagomina della casetta con ovviamente il suo fustellato quindi questo perché così mi dà la tridimensionalità del mio progetto in modo che non sia proprio così spappellato spiaggecato ma abbia almeno un micro spessore questo è feltro laserato quindi rimane un po' più rigido del feltro normale è tagliato ovviamente a laser la macchina quindi è preciso ed è da 3 mm quindi ci dà proprio quel piccolo spessore che ci serve perché sia leggermente tridimensionale questi fustellati vengono venduti a pacchettino quindi trovate esattamente i sei alberelli le tre casette la scritta auguri le stelline per decorare il tutto insomma trovate un bel malloppo di roba che costa 6 euro ed è venduto però separatamente dal pannello quindi potete anche acquistare a parte detto questo andiamo e andiamo a prendere io ho il mio avanzino i fiori quindi questi qua flowers i fiori che in realtà i fiori eccole qua io farò tre versioni di fiori diversi quindi dal mio pannello di pannolenci vado con una bella forbata vado semplicemente proprio una cosa facilissima la potete anche fare insieme ai bambini vado a ritagliare la mia sagomina quindi proprio seguo il diciamo perimetro per parlare visto che siamo in tema di ritorno a scuola il perimetro della sagoma e la vado a tagliare allora sono di misure diverse quindi c'è la grande e la media di rosso diciamo di sera di Natale l'altro vediamo se me la ricordo l'eleboro che non ho mai sentito in vita mia l'ho imparato qua dal pannello non lo so l'eleboro è quello verde tanto per capirci quindi taglio la mia le mie medie eccolo qua credete così sembrano le birre medie ma in realtà sono i fiori petali medi seguo vi occorrerà un filo robusto io uso quello della spagnoletta il numero 30 della marca gutterman perché è la più famosa ed è la migliore come tipo di filato la misura 30 perché è un po' più grossettina insomma magari chi non cuce fra di voi non sa neanche la differenza del filato allora le spagnolette quelle classiche che trovate per dire anche al supermercato sono della misura 50 si chiama numero 50 si chiama numero 50 vedete proprio stampilato sopra e sono quelle sottili che vanno nella macchina da cucire quelle che utilizzate per rattoppare i calzini per fare altre cose insomma il cucito casalingo la misura 30 invece è una misura un po' più particolare ed è meno usata diciamo nella cucito casalingo è più grossa quindi intanto se cucite a macchina dovete solo metterla nella spola sopra e non nella spoletta sotto perché se no non passa ed è utilizzata diciamo lo trovate tipo nelle ribattiture dei jeans per i tenici quindi un filo un po' grossettino ed è in fibra di poliestere quindi fibra sintetica perché così è molto robusta non marcisce non cala quando la lavate nel nostro caso non sono cose che non laviamo però diciamo è una misura molto più robusta ed è l'ideale appunto l'ideale per fare i nostri lavoretti quindi quando dobbiamo fare i fiori dobbiamo chiudere le palle dobbiamo fare altre cose e dobbiamo tirare molto il filo è quello ideale quello ideale perché appunto quando andiamo a tirare si patrizza tutto a posto grazie si si la mamma tutto bene quando andiamo a tirare non si rompe perché non c'è niente di più spiacevole che quando siete sul più bello che andate a tirare il filo e il filo si rompe il filo vi si rompe e si smonta il lavoro quindi lì è una cosa poco simpatica quindi bisogna utilizzare un filo bello robusto c'è chi adopera anche il filo da ricamo ma questo qua in poliestere secondo me è migliore e può essere anche utilizzato per fare il punto filza o il punto festone il punto feltro insomma quello che si usa per chiudere e cucire il feltro ok mentre io chiacchiero taglio i miei pezzettini quindi tagliamo anche questo che ho già fatto ecco qui quindi proprio seguo bene 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 la mia linea e poi andiamo a vedere come assemblare i pezzi vi dicevo che ho fatto tre versioni di fiori in tre tecniche diverse molto semplici quindi proprio non è una roba che ci vuole chissà quale manualità è una roba semplicissima intanto saluto tutte quelle che si stanno collegando adesso non vi saluto uno a uno perché sennò diventa come la vanamarchi che che sembra una televendita benissimo allora intanto prendiamo io ho preso il fiore rosso sessiolina e ho tagliato i petali singolarmente quindi mi ritrovo in questa posizione qua mi ritrovo così quindi ho tutti i miei petalini separati cosa faccio prendo il mio famoso agua e filo nodino alla fine così mi si blocca tutto e vado a fare un bel punto filza alla base ecco lo sono infilato vado tagliamo questo cerchiamo di non tagliare il petalo perché non sarebbe carino ok e vado quindi chiudo ad ingambiare nello stesso filo quindi proprio montati tutti sulla stessa catenella i miei petalini quindi questi poi sono petaloni sono petalini li monto tutti quindi filza alla base io direi che voi tutte sapete aia ecco la prima scottatura della stagione yeah benissimo perché ovviamente mi sono dimenticata che la colla a caldo l'avevo già accesa ma vabbè ok quindi abbiamo 2,4,5 secondo me io non vorrei dire ma per me c'è un altro petalo dovevano essere 6 ma faremo il fiore a 5 non c'è problema 2,4,5 no non sono proprio 5 sono io che sono rimambita benissimo le ferie non hanno fatto effetto quindi sappiatelo sappiatelo che vedete eccolo il filo cosa gli è successo il mio filo mi si è aperto un ottimo benissimo bene sono le cose belle della vita il fiorellino meno male che ho l'ago lungo e il punto filzo non va perlomeno non va tanto fitto e soprattutto non ho 350 petali da agganciare se no se no avrei già pianto ok ecco qui il mio fiore tiro dove ho fatto il nodino e chiudo a cerchio in modo da fare la mia corollina e questa è la prima versione di fiore quindi molto molto semplice i petali sono singoli tagliati singolarmente uno per uno e bloccati su un unico filo ecco qui e voilà tagliamo ovviamente l'accesso ecco qua e il primo fiore è fatto la tipa là dietro è vero perché sembra una testa vagante eh sì è la io la chiamo la mia pupette o Olga per gli amici Olga e sarebbe il mio il mio manichino apposta quando faccio i vestiti perché chi diciamo mi conosce già da un po' sa che io creo anche dei vestiti scenografici per quando faccio l'uscita in cosplay quindi creo dei vestiti che ripropongo il personaggio della tv quindi cartoni animati film film telefilm per dire fumetti e altre cose e quindi mi serve la mia pupette per creare i miei vestiti anche perché ovviamente io ho una taglia che non è proprio molto usuale quindi i vestiti me li devo fare da sola ok faccio la stessa cosa con le petali dell'eleboro con il culo verde quindi taglio uno per uno tiro i due estremi molto semplicemente tiro i due estremi in modo che si arricciano e chiudo a cerchio ecco qui ecco questo sarà la mia corolla sotto ecco taglio l'accesso ecco e quindi andrò a montare in doppio il mio fiore guardate già così com'è bello quindi vado pistola a caldo rovente filettino di colla e vado a montare i petali leggermente sfalsati premo un po' e mentre il nostro fiorellino si asciuga lo appoggiamo lì secondo fiore quindi secondo metodo benissimo c'è anche un pallino del gatto quando va fuori mi fa molto piacere come ha fatto ad essere sul mio filo lo sa solo lui ma vabbè voi sapete che io ho i gatti che vanno dappertutto e ho trovato in ferrarese si chiamano le grappelle che sono quelle palline che si appiccicano nel pelo del gatto o nei pantaloni e non si staccano più bene detto questo ho chiuso a parentesi che ho già detto trope festerie prendo l'altra mia strisciolina questa la lascio integra la lascio integra filo robusto nodino e vado a fare l'altra filzoletta quindi dentro e fuori anche qua passi lunghi ben distesi non di precisione possibilmente insomma almeno a mezzo centimetro dal basso e vado e vado a chiudere anche qua a cerchio il mio fiorellino quindi faccio la stessa identica cosa ma ho i petali tutti uniti chiudo e chiudo e questo sarà il mio secondo giro di fiori riprendo il mio filo nodino altra strisciolina quindi sempre lungo uguale filzoletta sotto ovviamente questa che io vi propongo è un'idea di come utilizzare il pannello poi ovviamente a me farebbe anche piacere vedere magari come voi utilizzate questi pannelli in quale in quale versione che cosa vi vi suggerisce la vostra fantasia ecco qua questo invece cosa faccio lo arriccio e blocco il filo da lato quindi lo affranco punta calamitata questo cosa faccio metto un puntino di colla gli angioletti ma proprio la sagoma dell'angioletto direi di sì i pannelli allora questi pannelli sono tutti questi pannelli sono in prevendita quindi cosa vuol dire si ordinano prima quindi mi dite quale tipo di pannello e poi dopo diciamo vengono ovviamente pagati in anticipo e poi dopo nel giro di 4-5 giorni lavorativi vi vengono spediti puntino di colla vado a realizzare il mio bocciolino che vado ad incollare sul primo giro sul secondo giro di petali che ho fatto punto di colla tengo premuto ovviamente forse c'è questo che impedisce un po' la vista ok bene vado a prendere l'altro pezzo di pannello se voi vedete del fumo strano non lo so ma ho visto del fumo molto strano uscire dalla mia pistola caldo e non è stato piacevole già sapete che io sono esperta nel far esplodere le pistole a caldo ma nessun problema perché se dovesse poi esplodere stranamente questa qui abbiamo la la scorta ne abbiamo un'altra di scorta per fortuna vado a tagliarmi le altre foglie quindi quelle proprio verde verdi verdi che sono da tre sempre uguale vedete di pezzi ce ne sono veramente tanti potete fare veramente tantissime cose riprendo il mio filo eccolo qua si va bene Emanuele mandami pure la fotografia che vediamo qual è ma direi che penso di aver capito però la tu mandami la che non si sa mai va là che così non sbagliamo per poter ordinare o comunque avere maggiori informazioni su questi tipi di pannelli e quali sono disponibili mi potete mandare un messaggio tramite whatsapp e il numero è 347 7176 144 oppure mandare un messaggino su messenger ecco qua anche qui stessa cosa mi sono messo un passaggio di foglia ma fa niente taglio due strisce di verde eccolo qui due striscioline di verde quindi questa la riccio e la chiudo diciamo la franco qua a un lato prendo l'altra ecco qui quindi faccio stessa cosa ecco qui e anche qua arriccio potete arricciare più o meno come più vi piace e blocco il filo eccoli là e tagliamo anche il codino qui e voilà bene prendo il mio fiorellino e vado ad attaccare sotto le mie foglie in questa maniera quindi giro a rovescio il mio fiore colla lungo il bordo e vado senza staccarmi no staccarmi scaldarmi le dita questo panno lenci essendo di fibra sintetica potete anche modellarlo con il calore quindi se volete dare un effetto più naturale al vostro fiore potete o con la piastra per capelli o messo sul faro da stiro potete dare anche una forma un po' più arcuata dei vostri petali questo lo lasciamo scaldare a testa in giù e andiamo a fare l'ultimo fiorellino quindi l'ultima tecnica quindi avete visto uno tutto a lungo uno tagliato singolo 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 e adesso andiamo a prendere gli ultimi due giri di petali eccolo qui anche qui tagliamo singolarmente i petali teniamoli separati perché i giri di corolla devono essere uguali prendo un petalino vedete che qua c'è una riga un po' più scura vado a fare una piccola incisione così adesso ve la sposto lo so così è inquietante è vero avete ragione la mia povera Olga ecco così vedete sono i miei progetti ecco tolta il testone così vedete solo la mia di testa che non è voglio dire piccola anche la mia ecco qua tagliamo i primi petali puntino di colla sul margine e vado a chiudere così quindi lo vado a sormontare faccio così ovviamente per tutte e due i giri ecco qua vedete vi fa la puntina prendo il mio filettino tanto così sistemiamo il primo giro ecco qua uno ecco qua due prendo l'altro tre e anche questo ovviamente poi lo chiudiamo a cerchio tre ecco qua il quinto fiorellino fiorellino ecco qui diamoli l'ultimo giro e voilà tiriamo dall'altra parte e chiudiamo sempre a cerchio ecco qui sempre tirate forte fate due o tre nudini per sicurezza dopo poi comunque tutto incollato non è che va per conto suo ecco qui tagliamo questo girettino l'ho fatto ciao ciao Maria Carmela benvenuta benvenuta in questa pazza diretta prendo gli altri petalini più o meno dove c'è il nervettino più scuro vedete che è segnato un pochino più scuro e faccio un'incisione di circa un centimetro quindi proprio gli faccio le gambette prendo un pochino di colla e vado a sormontare questa tecnica è molto carina se volete realizzare delle rose quindi vi piacciono non so i fiorellini tondi delle rose e li fate con i cerchi con i cerchetti tagliate tanti 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 cerchetti proprio tondini fate un'incisione come se fosse un raggio e qua torna sempre fuori la scuola e poi andate incollare i due pezzettini vi fa proprio la puntina e vi dà una forma un po' più allungata del vostro fiore quindi vedete non importa avere delle grosse tecniche delle vostre manualità sono cose veramente molto molto semplici ecco qui quindi prendo ancora il mio filo robusto prima che mi si sciolga dall'ago che potrei piangere e vado anche qui ad agganciare i miei petalini eccoci qua ovviamente dove c'è il puntino di colla che abbiamo dato è un pochino più rigidino quindi insomma usate un ago un po' grossettino perché è proprio in mezzo alla nervatura quindi insomma io cerco di saltarlo però vedete faccio un po' devo spingere un pochino ecco qui e voilà ecco questo facciamo così sta il buono lì quindi anche qui vado tiro al riccio in garbuglio ecco e vado ad affrancare il filo a lato ecco filo caduto e passarono tutta la sera di infilare l'ago ecco l'unica cosa antipatica di questo filo è che si apre e molto professionalmente va sciocciazzato così perché ovviamente non si infila neanche se piangiamo il telelinguo del mondo eccolo lì eccoti lì dai devo solo chiudere affrancare non mi fare arrabbiare che dobbiamo lavorare tanto perché qua si va proprio di filo a qui filo quindi non mi fare arrabbiare ok e tagliamo anche qui punto di colla all'inizio e vado a girare su se stesso il mio fiorellino in modo da realizzare la corolla centrale vediamo incollare il nostro arte ecco qui chiudiamo bene prendo il mio fiore che ho fatto prima punto di colla qua e vado ad incollarlo mentre loro due si asciugano vado a prendere l'altro pannello con le mie foglie grandi vedete qua sono più grandi sono due due quindi io vado ad estrapolare le mie due non le userò tutte ovviamente perlomeno la mia idea non era di usare ma vediamo poi in corso d'opera perché adesso stiamo preparando tutti i pezzi ma poi dovremo andare a creare il nostro fuori porta ecco sapete che poi nel frattempo si può cambiare idea ecco qua questo poi non vi ho detto una cosa che adesso ve la dico nel pannello è segnato una freccetta vedete qua c'è una freccettina perché qui vi indica se volete fare il follettino come questo vi indica il punto dove voi dovete cominciare a cucire qui da qui andando ovviamente dalla parte opposta in modo che così il barretto si incastra alla perfezione bene quindi andiamo a recuperare un altro filo che io sono stata brava me li sono tutti preparati ma non sono stati abbastanza sempre filzettina sotto e anche qua arriccio e chiudo non chiudo cerchio ma proprio chiudo lateralmente ecco qui vado a prendere altre due sempre di quelle grandi questo la possiamo riporre chiudo farò altrettanto quindi taglierò infilzerò e poi arriccerò in sotto una volta preparato questo che è l'ultimo fiore andremo a terminare la nostra base quindi faccio il filo io non sono stata brava perché non me lo sono agganciato molto male chiara ecco qua ormai siamo le regine del punto filza non ci ferma più nessuno ecco eccole qui e le vado ovviamente a montare sotto nel mio fiore un tinino di colla un tinino di colla e vado a chiudere adesso lo lasciamo così ok così intanto si asciuga questo è pronto questo è pronto vado che qua facciamo veloci 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 vado ad incollare le mie sagome quindi prendo le tre sagome di feltro panna colla una ricarica ce l'avevo un tinino di colla e vado a posizionare le mie sagomine eccola qua prima il bere l'ho fatto le sagome di fondo sono un colore unico quindi tanto viene nascosto non si vedono uno due tre così abbiamo preparato anche questi pezzi ecco qui è la nostra casettina quindi posizionata così allora vado metto nei punti più diciamo critici parto dal basso in modo che così sono sicura che aderisca bene non mi fa delle bolle e non mi viene attaccato storto ed ecco qua la nostra casettina e abbiamo fatto anche questo quindi prendo la mia base cercherò di recuperare un ago abbastanza grossettino perché se no mo non ci vedo eccolo qua quindi qua ho già tagliato cucito imbottito vado a chiudere sotto allora vado a chiudere sotto ma vado anche a controllare che sia abbastanza pieno invece secondo me è un po' smonto quindi vado ma figurati Piero è stato un piacere è stato un piacere che mi piacerebbe riuscire a fare gli auguri di compleanno a tutte ma dovrei avere l'amicizia personale con tutte voi perché mi venga la notifica però veramente mi sembra insomma almeno una cosa carina non dico festeggiare insieme però insomma un piccolo pensiero vado a riempire il mio bel cuscinetto tanto tiro il filo così vedo se sì direi che ci siamo qual è delle due il filato no questo no questo è quello buono allora con il filo eccolo là vado a chiudere anche qua ho fatto un punto finza poi prima di chiudere e affrancare guardiamo bene se ci piace o se è un po' magrino almeno lui cicciotto lo possiamo fare ecco qui sì adesso mi piace se no ci viene un fuoriborda fuffiolo ecco qui se no vi vengono anche bene i punti insomma qua sotto non importa perché comunque viene tutto chiuso poi viene nascosto dei fiori ecco qui ok e direi che qua abbiamo finito chiudiamo i nostri punti in modo che così non ci si smonta il lavoro tagliamo e qua abbiamo fatto la nostra basina ed ecco qui quindi vado intanto a sistemare dove voglio ovviamente i miei pezzi quindi dove andrò a montare i miei alberelli allora diciamo che il pannello è già un po' studiato perché ci sono proprio gli smanchi in mezzo quindi io direi che così come già non so se lo vedete prima che i cappotti come idea secondo me già ci siamo quindi vado a fermare le mie case e i miei alberi perlomeno a dargli la prima affrancatura io me lo giro quindi schiacciate bene adesso lo do di qua lo do lì nella punta nella punta eccolo lì ecco qua e schiacciamo non tantissimo però perlomeno insomma lo facciamo stare giù e intanto il nostro pezzo di paesaggio l'abbiamo fatto vado a recuperare tutti i miei pezzi quindi i miei tre fiori e vado ovviamente a posizionarli dove più mi piacciono considerando che nella mia idea volevo ovviamente vogliamo non metterci un nastrino quindi volevo utilizzare allora prima sono dei pannelli in pannolenti stampato quindi sono dei pannelli dove puoi fare adesso vado a recuperare questi due qui così te li faccio vedere questo rosso che sono i fiori natalizi e servono proprio per fare le stelle di Natale con fiori e foglie poi abbiamo invece questo tu ti sei collegata adesso questo che è il calendario dell'avvento ma io in realtà l'ho smontato e ho fatto tre farò tre progetti uno che stiamo facendo adesso insieme questo che ho già fatto io per conto mio come campionatura e uno che faremo prossimamente con il rimanente dei pezzi quindi con un pannello se ne fanno tre ho utilizzato il pannello dei fiori per fare ovviamente le stelle di Natale e comunque realizzare anche i folletti quindi vedete quante cose si possono fare allora io direi che un fiore qui un fiore si è cappottato uno dos questo ciccio lì e ovviamente adesso andremo a decidere ma direi che ho quasi deciso quasi super improvvisamente sì perché mi piace di più che non questo che è troppo bianco comunque andiamo ad attaccare i pezzi poi vi date un consiglio voi che sicuramente dall'altra parte dello schermo vi si vede meglio allora vado intanto vado ad attaccare questo qua grande che lo attacco qua però io ho già visto una cosa che non mi piace tanto e andrò sicuramente a riempire con delle foglie ma sapevo che era un po' così la cosa quindi ricarichiamo questa la poggiamo lì una una ecco giù ce l'avevo in mano prima io spero che il folletto degli spetti sia andato sia rimasto in ferie perché per chi non mi conosce bene deve sapere che io ho un folletto che mi fa i dispetti ciao cinzia hai visto c'ho la maglia firmata c'ho un po' un pataccato però non ho la maglia firmata ormai ti faccio su tutti i pelucchi del mondo sì c'ho la maglia con lo sponsor bene intanto vado a recuperare questo pezzo di pannello con le fogliolone grandi perché la foglia mi sono distratta un secondo e ho mozzicato una foglia vabbè non se ne accorgerà nessuno ecco qua e c'è un po' troppo di bianco che non mi piace e poi adesso vediamo se facciamo un esperimento anche qua mi piace come esperimento un po' meno la colla caldo nel dito aia però mi piace sì 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 tutto un tocco diverso adesso ve lo faccio vedere perché qua era aiuto un po' troppo bianco schiacciamo schiacciamo un pochino bene questo non ci serve vediamo quasi quasi visto che le foglie mi sono rimaste così diamo ancora un tocco di più al nostro progetto e direi che comunque l'esperimento di tagliare anche le foglie e di sormontarle mi piace e poi qua che c'è lo spacchettino cioè il pezzettino vuoto faccio una piegolina come una pence in modo da chiudere proprio per bene le mie foglie e vado vediamo se queste si sono asciugate e le vado a inserire qua dietro sì decisamente molto meglio ecco qui vedete ho montato qua sotto del verde perché secondo me era un po' troppo bianco bene adesso c'è il tocco finale ovviamente qua sotto abiliremo con un bel nastro allora io ne ho presi su due ve lo appoggio qua perché tanto la balconetta qua ci sta così mi date un consiglio allora io pensavo di fare un fiocco doppio ovviamente di quelli belli fatti col nastrate da spiaccicare qua sotto allora ho portato a casa questo che è un tipo scozzese rosso e oro questo invece che è bianco e rosso e ha i disegni insomma natalizi sopra secondo voi per fare un bel fiocco sotto meglio questo qua rosso che diventa più o meno così o è meglio questo qua in bianco e rosso dai datemi un consiglio voi che vedete meglio della di là secondo me era meglio questo quello rosso bene patrista dice rosso siamo già a due qualcuno dice questo qua bianco e rosso a qualcuno piace chiede due siamo già a tre con il rosso mi sa che vince dal rosso dai qualcun altro che ci dà un indizio secondo me è meglio questo bene anche la rosella dice rosso direi che allora ragazze sì direi che facciamo rosso anche secondo me da vedere così facciamo rosso dai aggiudicato allora qua si sono asciugati bene ok quindi prendo il mio bel nastrone deciso per rosso eh prendo il nastrarte per chi non lo conosce ve lo faccio vedere così perché è trasparente è un attrezzo fantastico quello scozzese è questo ok bene un attrezzo fantastico che ci serve ci permette di fare fiocchi perfetti in una maniera molto facile e veloce rossa con qualche bacchetta di cannella ottimo consiglio con un po' di bianco eh potremmo mettere le codine bianche sotto giusto? ma la secca di cannella mi piace assai mmm bene qui non ce l'ho con me ovviamente perché sono i tuoi incubo si l'incubo di tante i nastri perché i nastri non vengono? mannaggia che è così comodo con questo va bene allora direi che completerò poi farò i compiti a casa domani completerò il progetto con una bella secca di cannella un po' di nastrini sbrizzolanti eh in bianco e magari ci mettiamo qualche bella campanella anche sotto ma andiamo a fare il nostro fiacco lo farò questo qua da 13 cm quindi il meccanismo è molto facilissimo facile facile appoggio quindi nastrata appoggiato sul tavolo nastro questa a sinistra diventa la mia prima coda quella che scende giù l'appoggio sul davanti quindi questo decido che magari la voglio lunga così appoggio sul davanti giro sul dietro così e qua farei un fiocco singolo ma io voglio esagerare quindi farò un fiocco ok doppio quindi farò un altro giro con la parte destra passo attraverso taglierò prima il mio bel nastrino così sono più comoda passo attraverso lo faccio uscire dal buchino che mi si forma sotto prendo le mie code e annodo estrargo il mio fiocco lo vado ad aprire ed ecco qua il mio fiocco perfetto vado poi a sistemare tutte le mie codine ok ed eccolo qui quindi vedete molto facilissima e vado bello mi piace un sacco peccato che ci sono ancora 30 gradi ma va bene prima o poi l'inverno arriverà e mi lamenterò perché ci sarà la nebbia e ci sarà umido e non si vedrà una cipalippa da qui a lì perché Ferrara sapete che è la terra della nebbia grazie Eugenia grazie mille cara mettiamo il ditino per fermare che si asciughi e il nostro fuori porta nataloso il primo della stagione è finito guardate che bello colorato bello la neve oh qui è esploso un po' bene eccolo qua io rimarrò così tipo fino a domani perché così si asciuga bene e domani ovviamente lo completerò con come mi avete suggerito voi con nastrini e cannella perché l'idea mi piace assai vado solo a ripescare la cucitura che mi sa che nel frattempo mi è esplosa ha fatto più o meno come i pantaloni quelli invernali dopo l'estate quando vi andate a rimettere i pantaloni dell'anno precedente che per magia non stanno più perlomeno i miei da un anno all'altro c'è l'armadio che restringe i vestiti qui andiamo a recuperare ecco qua perfetto eccolo lì holà finito eccolo qua dopo ovviamente se voi volete appenderlo quindi non lo volete appoggiare al tavolo ma volete appenderlo metterete ovviamente un gancettino un nastrino qua dietro in modo che così stia bello sospeso ma essendo imbottito potrebbe essere anche un'idea un'idea come un cuscino un piccolo cuscinetto da mettere magari sopra a un tavolino sopra al divano mi raccomando basta che non avete degli animali in casa perché se no questi bellissimi fiori non dureranno sì assolutamente domani mattina subito prima di iniziare il cambio vetrina che odio il cambio vetrina ma domani mi tocca e vi completerò il fuori porta con con la cannella poi chissà qualche pignetta anche va bene vi faccio vedere domani cosa la notte porta consiglio cosa mi viene in mente e poi ovviamente vi faccio le foto ovviamente bene ragazzi il nostro progetto è finito io spero che vi sia piaciuto vi ricordo i due pannelli per realizzare questo progetto sono il pannello il 129 e che è cascato dall'altra parte il 136 sì perché lì non c'è il 136 che sono i fiori i fiori natalizi ogni pannello costa 15 euro avete a parte il il pacchettino con i fustellati della delle casette degli alberelli ovviamente in quantità quindi avete proprio le casette per ripetere questo quindi avete i i 5 alberelli avete le casette quindi e avete anche le stelline con scritto auguri quindi proprio tutto completo il pacchettino costa 6 euro ed è venduto a parte ovviamente e detto questo con i fiori natalisti potete fare anche i folletti quindi vedete si possono fare veramente tantissime cose e tutti i materiali ovviamente li trovate in negozio in via ripagrande 41 Ferrara oppure su questa pagina facebook nel catalogo o ancora meglio che adesso siamo super tecnologiche se salvate il numero di telefono in rubrica il 347 7176 144 vi compare di fianco al telefono un casottino piccolino cliccate sul casottino vi si apre il catalogo whatsapp e da lì potete fare i vostri acquisti direttamente sono già caricati anche tutte le novità del Natale di Creativa by Marta le fotografie non ci sono c'è il mio faccino sconvolto perché le foto non ci sono perché ancora non potevo pubblicarle spero che entro la prossima settimana arrivi tutto un modo da farvi vedere anche di che cosa parliamo ma intanto potete sbirciare e andare a vedere quello che è insomma un po' l'anteprima della produzione natalizia detto questo vi auguro buonanotte buon proseguimento vi do appuntamento a mercoledì prossimo con un altro video tutorial con Chiara ci indicipate seriamente quindi tutti i mercoledì ci sarà l'appuntamento fisso ma ho una sorpresa per voi una mega sorpresa avrò farò una extra live venerdì quindi questo venerdì 10 se non erro alle ore 21 sempre e vi presenterò un progetto in esterna quindi sarò ospite presso l'antica merceria Gambetti di Argenta la mia collega Sabrina con una diretta ovviamente mia pazza perché io non posso fare dirette normali una diretta pazzerella dove vi presenterò un progetto molto carino molto semplice alla portata di tutti e vi farò vedere che i merceria si può creare con tante cose bellissime quindi io vi do appuntamento a venerdì ore 21 sempre su questa pagina ovviamente perché trasmetterò da questa pagina e chiamerò ovviamente la mia collega in diretta quindi lavoreremo insieme e veramente ci saranno delle belle cose e ovviamente si sarà in compagnia in mia compagnia in vostra compagnia all'insegna della creatività quindi ragazzi mi raccomando liberate la fantasia che è la cosa più bella che c'è io vi saluto è stato un'emozione riprendere questa diretta veramente come il primo giorno di scuola io vi abbraccio vi abbraccio vi do la buonanotte e state sintonizzate ciao 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 ciao